Lontano, lontano da qui, in un altro paese, la piccola Molly Monster e il suo miglior amico Edison aspettano, aspettano e aspettano finché ecco apparire l'uovo mostro. Mamma e papà mostro devono portare l'uovo all'isola delle uova, che è il posto dove nascono tutti i mostri. Ma poiché la piccola Molly è ancora troppo piccola, o almeno così pensano i suoi genitori, non può venire con loro. Alla fine però, Molly ci dovrà andare lo stesso, tutta sola, solo lei insieme a Edison, viaggiando lontano, lontano, oltre le più selvagge delle montagne selvagge, fino all'altro capo di Mostrolandia. Come farà? Chi conoscerà sul suo cammino? E come riuscirà a trovare la strada? Ebbene, tutto questo ve lo racconta il nuovo film, Molly Monster, prossimamente al cinema.